Siracusa, consiglio tra ferro e fuoco, torna oggi con il bilancio. Un consiglio comunale turbolento torna a riunirsi stamane con all'ordine del giorno un solo argomento, ma tra i più scottanti, considerato che ci sarà in discussione una delibera per l'approvazione del bilancio di previsione relativa al 2019. Nelle ultime due sedute l'argomento principale era quello legato al regolamento di polizia mortuaria e dunque la vicenda relativa al cimitero è l'ulteriore proroga. Nell'ultima seduta è caduto il numero legale, in seconda sessione dopo l'appello erano presenti solo 11 consiglieri su un minimo di 14 per dare il via ai lavori. Oggi una seduta diversa anche se le posizioni critiche e polemiche, peraltro già annunciate in alcuni casi, non mancheranno. Ancora una volta la Presidente del Consiglio Comunale, Moena Scala, ha convocato il consigliere comunale nei locali dell'Urban Center di via Nino Bixio perché la Sala Vittorini al quarto piano di Palazzo Vermexio momentaneamente non dispone di aria condizionata. Sì, abbiamo iniziato la trattazione degli emendamenti, emendamenti con i quali ogni consigliere, ogni gruppo consigliare cerca di apportare le modifiche al bilancio finché possa essere lo stesso, reso più compatibile come macchina che va a gestire, come motore che va a gestire un ente, a quelle che sono le esigenze della nostra città. Il consigliere, lo sappiamo, dovrebbe essere colui che ascolta il cittadino, si muove all'interno della città e a seguito di quelle che sono le percezioni che ha, sia dai commenti dei cittadini che dalla realtà con cui si confronta ogni giorno, deve adattare il motore che va, come ho detto prima, a gestire l'intera macchina amministrativa a quelle che sono le esigenze per coprire i disservizi che ha la città. Ovviamente parliamo di un tema molto ampio perché questa città in questo momento ha solo disservizi, vorrei trovare qualsiasi sierocusano che mi potesse dire che ci sono dei servizi che funzionano appieno, questi servizi non funzionano. Come gruppo abbiamo presentato 46 emendamenti, siamo il gruppo che ha presentato sicuramente in termini di spostamento di somme la maggiore variazione in assoluto e abbiamo anche dichiarato che qualora anche solo uno dei nostri emendamenti non dovesse essere approvato, rieputeremo questo bilancio uno strumento che andrà a investire delle somme producendo uno sperpero di denaro pubblico e pertanto saremo contrari all'approvazione di un bilancio che non guarda le esigenze del cittadino ma guarda degli obiettivi che a nostro avviso non sono condivisibili. I punti presenziali sono certamente quelli che sono protesi a far partire i servizi essenziali per la città tipo servizi essenziali in vento da Silinite e quant'altro che sono fondamentali per la città. Il fatto che sia approdato in agosto il bilancio credo che sia da prendere nonostante siamo in ritardo comunque con una nota positiva perché se parliamo degli altri bilanci di presenzione sono approdati in aula uno a fine dicembre e l'altro addirittura a gennaio dell'anno successivo. Quindi diciamo che si sta facendo uno sforzo per cercare di riuscire a mantenere un rapporto con la città e cercare facendo una programmazione seria mettendo nelle condizioni i dirigenti di poter lavorare con delle somme specifiche già destinate per quello che bisogna per il lavoro che bisogna svolgere per la città perché andare a fare un bilancio di previsione a fine dicembre o addirittura l'anno successivo per il gennaio sappiamo tutti anche chi non è del settore insomma che è una cosa inutile totalmente.